Buongiorno FTA online, avvio incerto questa mattina per il Fuzzimib che però si mantiene su livelli graficamente ancora compatibili con un tentativo di ripresa e rialzo, i minimi adierni infatti di quota 22.100 circa sono analoghi a quelli che i prezzi hanno toccato nelle precedenti due sedute e da questa base dei 22.100 punti quindi l'indice potrebbe tentare un rimbalzo con obiettivo inizialmente 22.400 ma successivamente fino a 22.600 punti, ovviamente la violazione di 22.100 sarebbe negativa e comporterebbe la ricopertura del gap rialzista del 15 ottobre con una base sui 21.900 punti circa. Tra i titoli da seguire oggi ci sono quelli del lusso, in particolare abbiamo TOTS che questa mattina perde lo 0,93%, gli analisti di JP Morgan hanno tagliato il target price da 80 a 78 Euro ma hanno confermato il giudizio neutrale su TOTS, in questo momento siamo al di sotto dei 78 Euro e a dire la verità questa mattina siamo anche al di sotto dei livelli di supporto molto importanti, i prezzi sono infatti scesi al di sotto del minimo del 2 di ottobre di quota 75-35, ma più di questo quello che si nota è la presenza di un'ampia figura a doppio massimo che le quotazioni hanno disegnato a partire dal picco di marzo, sia a marzo che poi successivamente anche ad agosto i prezzi hanno infatti tentato di lasciarsi alle spalle quota 98, ma dopo aver fallito due volte questo tentativo sono scesi al di sotto del minimo che separa i due picchi di quota 98. La tendenza precedente non era particolarmente stesa, però si può in questo caso parlare di doppio massimo, siamo quindi con la figura appena completata e il rischio di una fase calante e anche di una certa ampiezza che potrebbe riportare i prezzi fino sui minimi dello scorso novembre a 64,20 Euro. In termini di rifiacciamenti di Fibonacci infatti ormai le quotazioni sono scese anche al di sotto del 61,8%, che come sappiamo è una discriminante importante che separa una quota, una fase di ritracciamento da una di potenziale inversione. Resta solo ora il livello del 78,6% che si posiziona a 71,55 Euro circa a separare il grafico dal ritorno sui minimi dello scorso novembre a 64,20 Euro. Per tornare positivo il titolo dovrebbe innanzitutto lasciarsi alle spalle della media mobile a 20 giorni che passa a 78,90 Euro circa e poi riuscire a superare la forte area di resistenza che si è venuta a creare in prossimità dei massimi di settembre e di ottobre sui 82,60 Euro circa. Quindi sopra 82,60 Euro le prospettive di cali anche estesi verrebbero negate. Fino a quel momento a nostro avviso è meglio sfruttare eventuali rimbalzi per alleggerire le posizioni e attendere nuovi segnali di forza prima di rientrare sul titolo. Situazione analoga anche per Salvatore Ferragamo che questa mattina però cerca di resistere le vendite, vale 22,55 Euro circa. Sia Barclays che JP Morgan hanno tagliato il target price sul titolo, uno a 28 Euro e quell'altro a 23 Euro con giudizio Equal Weight per tutti e due. Le quotazioni già questa mattina sono al di sotto di area 23 Euro e soprattutto siamo scesi molto vicini a quelli che sono stati i minimi del mese di settembre toccati in due occasioni in area 22,40 Euro circa. Anche ieri i prezzi si sono spinti fino a 22,46 Euro, siamo quindi in prossimità di un livello di supporto veramente molto rilevante e come vediamo dalle candele giapponesi il mercato nelle ultime sedute ha accelerato decisamente, il real body delle candele infatti coincide praticamente con i valori di apertura e chiusura. Siamo in una situazione negativa dai massimi dello scorso aprile, infatti è possibile tracciare un canale discendente che parte proprio da quei massimi, notiamo però che le quotazioni sono molto vicine alla base di questo canale che si posiziona poco al di sopra dei 22 Euro, quindi fino a che ci manteniamo al di sopra di quei livelli si può mantenere anche la speranza di un tentativo di rimbalzo. Sotto area 22 in particolare in caso di ricopertura del gap rialzista del 19 gennaio che ha una base appunto a 22,15 Euro, sotto i 22 Euro verrebbe confermata una situazione di ulteriore debolezza che potrebbe anticipare cali fino ai 19,50 Euro almeno. Come nel caso di Tots non si può escludere il rischio di un ritorno sui minimi dello scorso novembre fino ai 17,61 Euro. Anche in questo caso per tornare positivi un primo segnale verrebbe dato dal superamento della media mobile a 20 giorni che passa a 24,50 Euro, ma riteniamo che anche rimbalzi al di sopra di quei livelli rischierebbero di dimostrarsi un fenomeno temporaneo a meno che le quotazioni non salgano poi anche al di sopra dei 26 Euro. Quindi grande prudenza su questo titolo e sfruttare eventuali movimenti di reazione per alleggerire eventuali posizioni in essere. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata, vi diamo appuntamento con il commento giornaliero di domani alla stessa ora. Grazie.